La nuova riunione con Andrea Fabris, con Giovanni Carnevali, con Palmieri No, con Giovanni Rossi sicuramente e con un quarto uomo che non abbiamo identificato. Siamo quindi a caldo, alle 22 38 minuti primi esce la D di Sassuolo Calcio, la D di Master World Sport, il dottor Giovanni Carnevali, masini assolutamente esclusive, qua giù Andrea Fabris e laggiù invece è Giovanni Carnevali, eccoli là, Andrea Fabris qua, Giovanni Carnevali là e Giovanni Rossi è un quarto uomo che non abbiamo visto, vedete, 22-38 la partita, insomma il momento è serio, non so chi ci sia di altri ma. Andrea Fabris, buonasera a Hiller, buonasera a Hiller, chi era il quarto uomo Hiller? Giovanni Carnevali, Andrea Fabris, Giovanni Rossi e? Non me lo dirà niente, Hiller di Albania.